Leonardo Silva Revisore Buon pomeriggio, oggi vi voglio parlare di un sogno, il sogno della cura dei sani. Naturalmente, quando dico cura, non intendo terapia, anzi, è proprio il contrario, ma lo intendo nel senso di battiato. Io mi prendo cura di, o cura di te, mi interessa qualcosa. I care, diremmo in inglese. Ma, in effetti, se ci pensiamo, quando parliamo di questo argomento, l'organo istituzionale che si occupa dell'argomento si chiama Ministero della Salute. E non si chiama Ministero delle Malattie. Ma, malgrado ciò, anche noi, quando pensiamo alla nostra salute, ci immaginiamo subito la farmacia, l'ospedale, la sala chirurgica, l'ambulatorio. E pensiamo alle malattie. E pensiamo che le malattie siano tutte diverse, le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie neurodegenerative. Siamo nella situazione in cui era Ptolomeo quando ha pensato che la Terra fosse al centro dell'universo e che tutto girasse attorno alla Terra. Poi è venuto Copernico e ha convinto tutti che non era così, ma che era il Sole al centro e quindi ha cambiato, ha fatto quella che chiamiamo una rivoluzione copernicana. Allora, oggi ci troviamo nella medicina con l'esigenza, con il desiderio di fare una rivoluzione copernicana. Al posto della malattia vogliamo mettere al centro della medicina la persona, l'uomo. Ma quando pensiamo all'uomo, abbiamo una tradizione tale che pensiamo immediatamente all'uomo sofferente, all'uomo malato, come questo incappucciato della processione del Giovedì Santo che si svolge a Lanciano, in Abruzzo. E noi ci immaginiamo che da questo, dal modello dell'uomo malato, possiamo ricavare delle informazioni utili per tutta una serie di altre persone che, come vediamo, sembrano tutte uguali. E per cui il modello del malato va bene. In realtà, se cogliamo gli incappucciati in un momento in cui non hanno il cappuccio, ci rendiamo conto che sono l'uno diverso dall'altro e che quindi questo modello non va bene. Voglio quindi utilizzare qui una frase famosa di Don Milani che diceva che l'obbedienza non è più una virtù. Io voglio dire, in medicina, l'uguaglianza non è più una virtù. Non siamo tutti diabetici, non siamo tutti ipertesi. Vogliamo vedere le cose in un modo diverso. Certo, se fossimo come questi ombrelloni di rimini, tutti uguali, sarebbe una cosa molto più semplice. Ma in realtà la nostra situazione è più vicina a quello che voi vedete adesso in questa immagine. Ma davanti a questa confusione, davanti a questa complessità della situazione degli uomini, che cosa possiamo fare? Una quindicina di anni fa, con il mio gruppo di ricerca, che operava in Molise, abbiamo pensato di cambiare un po' la prospettiva e di fare uno studio che dal nome stesso, dal titolo stesso del progetto, Molisani, sottolinea e indica chiaramente che siamo interessati di più alla salute che alla malattia e siamo interessati di più a capire cosa c'è prima, cosa c'è all'origine del benessere dell'uomo. Abbiamo sorteggiato, come diceva Brett stamattina, abbiamo sorteggiato 30 paesi in Molise e siamo andati a chiedere al sindaco la lista dei residenti. E in ogni paese abbiamo preso un numero di persone, abbiamo sorteggiato un numero di persone proporzionale al numero degli abitanti. E alla fine abbiamo preso 25.000 persone. Era una cifra che veramente all'inizio mi ha impressionato. Abbiamo pensato, adesso vediamo com'è questa popolazione, però subito ci siamo resi conto che non valeva la pena di sapere quanti tumori c'erano, quante malattie cardiovascolari. Abbiamo pensato di andare un pochino più alle radici e ci siamo immaginati che le malattie che a noi sembrano così diverse, in realtà, se andiamo a scavare sotto, vediamo che sono come degli alberi che hanno delle radici o comuni o comunque che si intersecano molto. E allora il nostro interesse si è spostato dalle foglie e dai rami, si è spostato sulle radici. Vi faccio qualche esempio di che cosa abbiamo trovato in questa indagine. una delle radici che è alla base di quegli alberi che abbiamo visto è l'infiammazione. Allora noi sappiamo l'infiammazione, ci immaginiamo una febbre altissima, un dolore alle ginocchia che non ci fa camminare, delle artriti, le artrosi, tutto quello che vi potete immaginare. Ma questo è già qualche cosa che è successo. Noi non vogliamo fare una medicina di guardie e ladri. Che succede? Che prima aspettiamo che i ladri facciano un'operazione e poi le guardie li inseguono. E noi facciamo uguale. Aspettiamo prima che si sviluppi una malattia, prima che si sviluppi e si manifesti un'infiammazione e poi gli andiamo dietro, cerchiamo di curarla. Non è così. Vogliamo vedere piuttosto qualche cosa che rassomiglia meglio a questa immagine. Non ci interessa la parte dell'iceberg che si vede. Sì, lo vedono tutti. Questo lo può vedere la medicina tradizionale. Noi vogliamo andare più sotto. Vogliamo andare a studiare, a capire cosa c'è nella parte nascosta. dell'iceberg. E questo, vi assicuro, è un'impresa molto affascinante. Qualche esempio. Questa infiammazione, che non è appunto il dolore, la febbre, può essere misurata in modo che abbiamo elaborato nei nostri laboratori e chiamiamo infiammazione subclinica. Tutti noi qui abbiamo un'infiammazione subclinica, ma nessuno di noi lo sa, neanche io. Ma se andiamo a misurare in una popolazione come Molisani questi parametri, ci accorgiamo che c'è una diversità. Nessuno se ne rende conto. Però abbiamo potuto vedere che man mano che aumenta questa infiammazione subclinica, aumenta niente meno che il rischio di morire. Quindi noi camminiamo tranquilli, portando dentro di noi un'infiammazione subclinica che determina, favorisce, quello che sarà il nostro rischio di morire. È una cosa veramente affascinante. Allora uno subito dice, dammi il farmaco, voglio ridurre questa infiammazione. Eh no, il farmaco viene dopo, fa parte di quella medicina che noi non vogliamo fare. Che cosa possiamo fare per ridurre nella nostra vita di persone sane questa infiammazione? Allora abbiamo potuto studiare e capire che mangiare in modo mediterraneo, dalle nostre parti è abbastanza frequente, aderire alla dieta mediterranea riduce questa infiammazione di cui nessuno se ne accorge. Ma neanche noi, mangiando la dieta mediterranea, frutta, verdura, olio d'oliva, un pochino di pesce e così via, nessuno si accorge che mangiando si riduce l'infiammazione. Sono tutte cose che vanno sotto l'iceberg, ma determinano in maniera importante quello che è adesso la nostra salute e quello che potrà essere un domani il rischio di ammalarci o addirittura di morire. Allora abbiamo voluto verificare se la dieta mediterranea riduce questa infiammazione subclinica, cosa fa poi nella realtà? E come vedete riduce la mortalità per malattie cardiovascolari, ma anche la mortalità totale per tutte le cause. Quindi è una cosa interessante che se uno segue questo tipo di alimentazione riduce qualche cosa che non vediamo, ma riduce anche qualche cosa che si può sperimentare, che è la mortalità per le malattie più diffuse che abbiamo oggi, che sono le malattie cardiovascolari. Però evidentemente non è soltanto la dieta mediterranea, noi sappiamo tutti che è bene non fumare, che è bene camminare, fare attività fisica, che è bene controllare il peso. Se mettiamo insieme tutte queste buone abitudini e poi andiamo a misurare nei dieci anni di osservazione che stiamo seguendo, che stiamo facendo su questa popolazione di molisani, vediamo che i molisani che non seguono questi stili di vita hanno una curva di mortalità che è quella rossa in alto, che è molto più alta, molto più pericolosa di chi invece, vivendo nello stesso ambiente, ovviamente calcolando tutte le variabili, la variazione qui sono solo gli stili di vita, ha un rischio, una curva di mortalità che è molto più bassa. Quindi non c'è bisogno di andare in ospedale, non c'è bisogno di pensare alle farmacie, non c'è bisogno di pensare ai farmaci. Noi possiamo controllare la nostra salute e anche prevedere e prevenire delle cose che temiamo in maniera che è molto più vicina all'essere sani che all'essere malati. Allora, dopo aver visto queste cose, eravamo molto contenti e molto soddisfatti. Poi siamo andati a guardare un pochino più da vicino e ci siamo resi conto che la dieta mediterranea non è uguale per tutti, non fa bene a tutti indistintamente. Per esempio, chi ha studiato di più ha più vantaggio dalla dieta mediterranea. Voi direte, ma perché? Non lo sappiamo ancora bene, però sappiamo, perché l'abbiamo studiato, che chi ha un grado di istruzione superiore legge meglio le etichette, è più critico, segue meno le notizie false che i giornali e la televisione ci propinano sulla salute ogni giorno. Ogni giorno ci sono anche persone che hanno dei canali televisivi che dicono una serie di sciocchezze. Quanto uno più è colto, più ha sviluppato un sistema critico per resistere a questo tipo di mala informazione. E l'altra cosa, e ci siamo accorti, che non solo il medico, ma l'agenzia delle entrate gioca un ruolo importante nella nostra salute. La gran parte dei molisani hanno risposto a una domanda sul reddito familiare, guardandoci bene come se potevamo essere degli agenti delle tasse camuffati da un camice. E quindi abbiamo potuto studiare e valutare che il reddito è più importante del colesterolo. Noi tutti vogliamo misurarci il colesterolo, ma il reddito familiare, il reddito personale è estremamente importante. Perché? Vi faccio un semplice esempio. La dieta mediterranea è caratterizzata da tante cose. L'olio extravergine di oliva. Allora, noi nei questionarii diciamo lei, signora, consuma l'olio extravergine di oliva? Sì, sì. Allora, un punto a favore. E lei consuma l'olio extravergine di oliva? Sì, sì. Un punto a favore. Poi, seconda domanda. Quanto costa mediamente una bottiglia di olio che lei compra? 14 euro. Quanto costa una bottiglia mediamente? 4 euro. Allora, è vero che tutte e due seguono la dieta mediterranea, è vero che tutte e due condiscono l'insalata con l'olio extravergine di oliva, ma capite che la differenza è enorme. Quindi anche all'interno della dieta mediterranea l'uguaglianza non è più una virtù e non basta più dire che la dieta mediterranea fa bene, bisogna definirne la qualità, l'origine, capire tutte queste cose per poter avere un'idea di come va e come può andare la nostra salute o il rischio di ammalarci. L'ultima cosa che abbiamo visto che ci sta molto interessando è che siamo in una società che invecchia, quindi stiamo diventando tutti più vecchi. La vecchiaia, l'inmecchiamento è certamente un problema che ci interessa molto. Allora abbiamo scoperto nei molisani che non è tanto importante l'età che deriva dai nostri passaporti, dalla carta di identità che ognuno di noi ha, ma l'età biologica, cioè l'età che deriva da una serie di parametri che noi stiamo elaborando per cercare di definire meglio che cos'è questa età biologica. L'età biologica corrisponde meglio al rischio di ammalarsi e alla possibilità di tenere bene la nostra salute. Basta quindi con una medicina che sia contenta di misurare la pressione, misurare il colesterolo, la glicemia, l'esame delle urine. Vogliamo una medicina che indaghi l'uomo, che indaghi la persona in tutte le sue caratteristiche, nelle sue passioni, nelle sue letture, nei suoi viaggi, dove abita, come viaggia, qual è la sua situazione socio-economica. E così anche io, anche noi come Diogene, andiamo in giro, in mezzo alla gente, a cercare l'uomo, a cercare la persona, a cercare l'individuo. in realtà a me non interessa molto che sia più sano o meno malato. Mi interessa che sia più felice e mi interessa che abbia trovato un senso alla propria vita e alla propria morte. La ricerca continua. Vi ringrazio. Grazie.